Ciao, sto seguendo la partita in diretta, ho messo un attimo il mutuo per fare questo video flash. Praticamente questa finora è stata una Juve praticamente perfetta, cattiva, precisa, mostruosa. Ok direte, avremo contro il Cagliari. Vabbè il Cagliari è sempre una squadra che ha dato problemi, comunque il gol di Rugani, il gol di Ciccione, Bombolone, Higuain, il gol di Dani Alves, che goduria. Intel vi abbiamo fatto vincere giusto per darvi una gioia nella vostra vita da poracci. Fino alla fine forza Juve, vamos!